Beautiful anticipazioni. Ridge e Taylor decidono di convolare a nozze. Lunedì, 18 marzo 2024. Liam è con Hop in ufficio. Si congratula per il successo della sua collezione e le chiede se c'è qualcosa che debba sapere su Thomas. La ragazza preferisce mantenere l'assoluto riservo riguardo al tentativo di lui di baciarla. Nel frattempo, Brooke è profondamente addolorata e comincia a capire che il suo matrimonio è finito a causa di un intrigo di Thomas. Liam ha lo stesso sospetto e lo riporta ad Hop che, invece, fa ricadere tutta la colpa su Steffi. A loro si unisce Katie che, più saggiamente, crede che Ridge sia l'unico responsabile. È un uomo adulto e maturo, capace di prendere da solo le proprie decisioni. Ma lo Spencer è fermamente convinto che sia stato Thomas a complottare contro la Logan. Intanto Taylor, incredula, apprende la notizia dell'annullamento. Non riesce a gioire in quanto teme che succederà qualcosa che porterà Ridge a cambierà idea, come ha sempre fatto. Steffi la rincuora. Martedì, 19 marzo 2024. Brooke conferma a Hop di aver firmato l'annullamento. Piangendo, ammette di credere fermamente che ci sia la mano di Thomas dietro la scelta di Ridge. Poi mette in guardia sua figlia, facendole notare che quel ragazzo è ancora ossessionato da lei e le consiglia di allontanarlo subito. Aggiunge che Ridge voleva farle ammettere qualcosa, come se avesse procurato volontariamente un danno a suo figlio. Taylor, in compagnia di Finn, rivela di essere molto confusa riguardo alle ultime iniziative prese da Ridge. Non nega di essere felice ma sa quanto Brooke e lo stilista siano legati. Il dottore le chiede se conosce il motivo che ha spinto il Forrester a lasciare la Logan. Lei non sa fornire una risposta precisa. A casa di Eric, Thomas chiede a donna di evitare di incoraggiare Douglas ad utilizzare l'app che simula le voci. Ridge, più tardi, raggiunge la psichiatra per darle una bellissima notizia. Mercoledì, 20 marzo 2024. Thomas torna a pensare alla chiamata fasulla fatta agli assistenti sociali. Arrabbiato, intima suo figlio di cancellare la donna raggiunge Brooke per consolarla. Alla sorella, la Logan afferma che Ridge si comporta come se fosse stato fatto un torto ai suoi figli, in particolare a Thomas. Donna le racconta di quanto successo a Villa Forrester, Thomas si è infuriato fin troppo con Douglas per via dell'app che falsifica le voci. Brooke, preoccupata per il piccino, decide di raggiungerlo. Nella sua cameretta, Douglas sta per eliminare l'applicazione quando scopre la possibilità di ripristinare i fil cancellati. In credulo, trova quelli relativi alla telefonata fatta ai servizi sociali dal papà. Ridge convoca Taylor nel suo showroom. Con un pulsante, accende un riflettore che illumina uno splendido abito da sposa. Poi si inginocchia e, con in mano un bellissimo anello, le chiede di sposarla. Giovedì, 21 marzo 2024. Douglas affronta duramente il padre dopo la sua scoperta. Lui, terrorizzandolo, lo obbliga a tacere. Alla Forrester Creations, Ridge e Taylor comunicano a Steffi la, lieta novella. Al settimo cielo, la giovane riporta la notizia al nonno e da donna che non reagiscono con lo stesso entusiasmo. Brooke e Katie continuano a parlare di Ridge e del misterioso errore che secondo l'uomo è stato commesso. Taylor, intanto, avvisa la figlia che il matrimonio si terrà il giorno successivo a Villa Forrester e che devono sbrigarsi. Le chiede di essere la sua damigella d'onore. Steffi accetta con gioia. Arriva Douglas che appare molto pensieroso. Donna, intanto, si precipita da Brooke per comunicarle che Ridge e Taylor convoleranno a nozze l'indomani. Eric non sostiene la scelta del figlio. La Eisa è molto dispiaciuta. Thomas prende in disparte il piccolo Douglas. Gli chiede di dimenticare ciò che ha ascoltato. Venerdì, 22 marzo 2024. Justin cerca di far cambiare idea a Ridge. Tutti sanno che nel suo cuore c'è spazio solo per Brooke Logan. Lui appare pensieroso. Eric conferma a donna ciò che pensa. Ridge ama ancora Brooke, ma vuole sposare Taylor. Donna, intanto, decide di non partecipare alle nozze. L'indomani mattina, Thomas trova Douglas nella sua cameretta. Il ragazzino non vuole in alcun modo festeggiare un matrimonio basato su una bugia. Carter esterna i suoi timori a Katie riguardo alla cerimonia nuziale. Brooke e Ridge hanno un ultimo confronto, nel corso del quale lo stilista le promette che la amerà per sempre ma che ha bisogno di una donna come la Eise nella sua vita. Più tardi, Eric insiste con il figlio. Vuole sapere la verità riguardo alla fine della sua storia con la Logan. Ridge non ha altra scelta se non parlargli della chiamata fatta, a suo dire, da Brooke per denunciare Thomas. Taylor, lì presente, è incredula. Sabato, 23 marzo 2024. Mentre a Villa Forrester tutti sono sconvolti per la rivelazione fatta da Ridge, Donna e Katie decidono di sostenere la sorella e di non prendere parte al matrimonio. Intenzionate più che mai a scoprire la verità una volta per tutte. Taylor, in cuor suo, si augura che Ridge non voglia sposarla solo perché deluso da Brooke. E chiede al Forrester di essere sincero, una volta per tutte. Lui spiega che la Logan ha rotto la sua fiducia in tantissimi modi. Poi prende le sue mani e le giura di amarla. Rassicurata, la Eise lo bacia. Thomas sottolinea le parole del padre, affermando che Ridge non è tornato da Taylor in risposta ad un comportamento errato e scorretto della Logan. Questa volta, è stato spinto dall'amore. Poi propone un brindisi, al quale Steffi si unisce con entusiasmo. Mentre i promessi sposi festeggiano le imminenti nozze, Brooke, a casa, guarda una foto di lei e Ridge dei scoppi a piangere. Grazie. 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 Grazie.